Tentata estorsione in concorso aggravata dall'averla commessa valendosi della forza di intimidazione e della legame con la consorteria mafiosa di Cosa Nostra, clan Emanuello. Avevano preso di mira un imprenditore impegnato nel settore della raccolta della plastica di smessa delle serre a Gela. Adesso sono in carcere arrestati dalla squadra mobile di Caltanissetta e dalla polizia della locale commissariato in esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP presso il Tribunale Risseno David Salvucci su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Le manette sono scattate per Maurizio Turbia, 48 anni, e Diego Nastasi, di 50. Quest'ultimo si trovava agli arresti domiciliari per altri precedenti. L'attività investigativa condotta dalla mobile dal commissariato di Gela, diretti rispettivamente da Marzia Giustorisi e da Francesco Marino, è stata avviata nell'aprile scorso. Sono stati alcuni imprenditori gelesi che accompagnati dall'antiracket di Gela avevano segnalato un tentativo di estorsione ai danni di un loro collega impegnato nel settore imprenditoriale della raccolta della plastica dismessa dalle serre nelle contrade Bulala e Mignechi. Turbia e Nastasi avevano cercato di convincere, attraverso minacce chiare ed implicite, a corrispondere loro delle somme di denaro di un ammontare non precisato ma da determinare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Diego Nastasi, su ordine di Maurizio Turbia, si è incontrato con la vittima chiedendogli quale fosse la somma di denaro che era disponibile a corrispondere al suo compare per ogni autocarro di plastica dismessa recuperata dai sericoltori che operano nel territorio, sottolineando che già altre persone si erano dichiarate disponibili a pagare una somma determinata di denaro pur di avere l'esclusiva nella raccolta della plastica, facendo chiaramente intendere che in caso di mancato pagamento lo stesso non avrebbe più potuto proseguire nella sua attività di raccolta della plastica dismessa in quel territorio. L'imprenditore però ha denunciato tutto alla polizia. E' prezioso, come dicevamo, è stato il contributo dell'associazione antiracket di Gela preseduta da Renzo Caponetti che è riuscita ad infondere negli imprenditori il coraggio di denunciare e la fiducia nelle istituzioni. Il risultato investigativo conseguito, sottolineano gli inquirenti, non solo ha permesso di riscontrare le digrazioni degli imprenditori e di individuare il sistema mafioso che cercava di imporre il proprio diktat sul territorio, minacciando pesantemente gli imprenditori del settore della raccolta della plastica, ma ha permesso di individuare in Maurizio Trubia l'uomo che dopo gli arresti del novembre 2015, operazione Radivivi, stava cercando di riprendere le redini del clan Emanuello.